federico lauri in arte federico fashion style è una delle rivelazioni della sedicesima edizione di ballando con le stelle il parrucchiere 32enne ha avuto la possibilità grazie al programma condotto da milly carlucci di farsi conoscere ad un pubblico vastissimo in vista della finalissima dello show lauri si è confidato a fq magazine a proposito della sua tanto discussa vita privata del suo rapporto con il lavoro e della sua opinione sui vaccini lauri è in gara ballando in coppia con la ballerina anastasia kuzmina dopo un primo momento di smarrimento l'air stylist si è riuscito ad ambientare e si è letteralmente sciolto conquistando le simpatie di pubblico e giuria tanto da essere un papabile candidato alla vittoria ecco un suo bilancio della per me ho già ho vinto perché sono riuscito a farmi conoscere per come sono realmente sono molto sulle righe ma non fingo mai volevo vivere questa esperienza e condividerla con la mia fan federico non si è tirato indietro dal lodare la sua maestra con la quale ha instaurato un bellissimo rapporto a quanto pare la kuzmina lo ha molto aiutato a uscire dalla comfort zone e a mettersi in gioco con il suo corpo una compagna di viaggio meravigliosa è una ragazza molto determinata come me la cosa di cui vado più fiero è che mi ha aiutato a conoscere bene il mio corpo non ho mai fatto attività fisica ne sono andato in palestra per me è stata tutta una sorpresa un'inforza per me è stata tutta una sorpresa che non ho mai fatto attività non ho mai fatto attività Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.